Un caro saluto da Mario Giuliacci, il tempo previsto per venerdì 2 agosto, ancora deboli venti atlantici sul nord Italia, ancora anticiclone nordafricano al centro-sud, debole al centro ma piuttosto forte sulle regioni meridionali. Ecco allora il tempo previsto, rovesci temporali soprattutto al pomeriggio sul nord Italia tranne la Liguria, temperature intorno a 28-30 gradi al nord, 30-33 al centro, 33-36 su Puglia, Lucania, Calabria, interno delle isole maggiori, 29-32 sul resto dell'Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.